Ben ritrovati a Videogame News, il TG videoludico di EveryEye.it. Uno sviluppatore di Sony Band ha rivelato nuovi dettagli su Days Gone. Lo zombie game open world in arrivo esclusivamente su PlayStation 4. I nuovi nemici, chiamati Freakers nello specifico, saranno particolarmente aggressivi e veloci, simili per certi versi alle creature che popolano il mondo di 28 giorni dopo e World War Z. Ognuno di loro si comporterà in modo diverso sulla base delle condizioni meteo e dell'ambiente circostante e molto spesso li ritroveremo ad agire in gruppi più o meno numerosi e quasi mai da soli. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sul gioco, visto che Sony rilascerà sicuramente alcune informazioni interessantissime durante le prossime conferenze. Telltale Games ha annunciato che ha tutta l'intenzione di rilasciare i primi 5 episodi della stagione in corso di Batman entro la fine dell'anno. Tuttavia il team non vuole per nessun motivo sacrificare la qualità del prodotto per rispettare le scadenze in questione e quindi l'ultima parte della serie dedicata al Cavaliere Oscuro potrebbe anche slittare all'inizio del 2017. Provando a supporre un modello di distribuzione mensile dei vari capitoli, inoltre possiamo aspettarci il debutto del primo episodio a luglio o ad agosto, anche se non vi è stata ancora nessuna conferma in merito da parte della Software House. Arrivano anche nuovi dettagli da parte di Katsuhiro Arada su Tekken 7 e sul suo story mode. Per la prima volta nella storia del franchise infatti non ci saranno sequenze cinematiche separate dal gameplay visto che entrambi gli elementi godranno di una soluzione di continuità come succede in molti giochi action e adventure. Arada infine ha parlato brevemente della Real Engine 4, ultima versione del motore grafico di Epic Games che ha permesso al team di migliorare il comparto tecnico della produzione aumentando il livello di dettaglio dei modelli poligonali dei personaggi. Vi ricordiamo inoltre che Tekken 7 uscirà nel 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Durante le 3 di Los Angeles Todd Howard aveva lasciato intendere che The Elder Scrolls 6 era già in fase di sviluppo. A chiarire la situazione tuttavia ci ha pensato nelle scorse ore Pete Hines, vicepresidente PR e marketing di Bethesda Softworks. Rispondendo a una domanda su Twitter, Hines fa sapere che il nuovo capitolo della serie ruolistica non è attualmente in lavorazione e che ci vorranno diversi anni prima di vedere il gioco completo nei negozi. Il publisher è al momento concentrato su altri progetti e Test 6 potrebbe arrivare non prima del 2019 o addirittura il 2020. Il progetto originale di System Shock Remastered si è talmente evoluto nel corso degli ultimi mesi da diventare quasi un vero e proprio reboot. Gli sviluppatori infatti vogliono realizzare il reboot di un classico creando però al contempo qualcosa di nuovo e grazie alla passione e all'impegno profusi dallo studio il progetto ha raggiunto ambizioni che vanno oltre quella di una semplice rivisitazione del primo capitolo. La campagna Kickstarter per il progetto partirà il 28 giugno mentre nelle settimane a seguire verrà rilasciata una demo giocabile. Takashi Izuka, responsabile del Sonic Team, ha annunciato che per vedere un nuovo capitolo della serie dovremo aspettare purtroppo il 2017. Molti dettagli relativi al misterioso progetto saranno annunciati durante il party del 25esimo anniversario del Porco Spino Blu che si terrà a San Diego il prossimo 21 luglio e verrà trasmesso su Twitch. In questo momento purtroppo la compagnia non ha condiviso nessuna informazione sul prossimo Sonic ed è quindi difficile stabilire sia le piattaforme di destinazione sia il genere a cui apparterà il videogioco. Rimanete ovviamente sintonizzati su EveryEye per non perdervi nessun annuncio a riguardo. Chiudiamo l'edizione di oggi con le consuete top e flop news. Il top odierno spetta di Ritopsionics. Gli sviluppatori hanno confermato nelle scorse ore che Rocket League ha raggiunto e superato la quota di 18 milioni di giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC. Si tratta di un risultato davvero notevole e con ogni probabilità il successo del gioco sarà destinato ad aumentare con la recente pubblicazione di Rocket League Collectors Edition, versione retail pubblicata il 24 giugno che include anche 4 veicoli esclusivi. Ricordiamo che l'ultimo aggiornamento gratuito ha introdotto molte novità, tra le quali la mappa New Tokyo. Il flop di questa edizione lo segniamo invece a Kick-Off Revival. Il titolo è stato pubblicato su PlayStation Store il 24 giugno e qualche ora fa sono arrivate le prime recensioni della stampa internazionale che hanno letteralmente massacrato la riedizione dello storico titolo calcistico. Le critiche più comuni mosse al gioco riguardano la mancanza di un qualsiasi genere di tutorial, la profonda arretratezza delle meccaniche e una grave incapacità dell'IA dei portieri. Con questa notizia è tutto per oggi, ci vediamo con Video Game News come sempre il prossimo venerdì.